Nella lunga storia ho iniziato a correre nel 1990. Ho fatto un anno così, però proprio avevo già la passione guardando da giovane. Non avevo mai immaginato di correre, però da giovane mi ricordo quando ero all'Alpeggio, vicino al nostro villaggio di Nissò, passava già l'ora una gara di Massa a Pià che andava in punta allo Zerbio. E lì mi è già piaciuto allora, vedevo tutti passare questi campioni da Marco Treves a Gabiglion, a Oreste Gabiglion, Donato Duclì, Erminio Nico e vedevo passare questi atleti andavano fortissimo in solita discesa. Solo anni dopo ho cominciato, nel 1990 mi sono messo un po' a allenare e da lì ho cominciato. Allora fare Massa a Pià era troppo bello, era un mondo bellissimo. Si faceva le gare con passione, c'era proprio... e dopo c'era una festa. Chi vinceva le gare era... io ho iniziato a tribolato un po', non vincevo. Però la... la palestra di... proprio le Massa a Pià è stata una... mi ha insegnato tanto ad andare in montagna. proprio la... erano gare non lunghe, massimo, duravano poi. C'era il Don Dei che erano più lunghe, la... che partiva da... la Chalang andava di Le Sanei, era un'ora e trentasei, un'ora e cinquanta. Quella era la più dura, se no le gare, le marce alpine, duravano massimo cinquanta minuti, salita discesa, un'ora. però lì, secondo me... lì ti insegnava proprio la tecnica, la velocità di discesa, perché le gare, essendo corte, lì davi... davi... davi tutto nel tuo fisico, imparavi proprio a migliorarti e andare insieme più veloci. adesso non so... penso che... che non c'è più tanto che... perché la moda... c'è la moda del... chi fa più chilometri, chi fa più lunghi, chi... però non... non è tutto la lunghezza... le gare corte secondo me devono tornare un po'... perché adesso sembra uno che fa una... una marcia alpina o una gara di marcia alpine... e niente... ma le gare di 12 km quando sono tirate valgono tanto come... come le gare lunghissime... adesso basta mettersi... si... allenarsi e fare le gare lunghe... ma secondo me non è così. secondo... io sì ho corso con... con tanti atleti forti... ma... più che mi è rimasto come completo... uno dei forti che ho corso era il mio amico... che è mancato troppo giovane... Mauro Fogu... io allora... correvo... ero... correvo per l'Atletica a Zerbio... di Desandri e... c'era Simeoni e Perosino... eravamo un po' rivali... ma andava veramente forte... io andavo più forte sulle discese tecniche... lui fortissimo sulle discese... un po' corribili... era imbattibile... e lì mi ha molto impressionato... lì... era proprio un mio amico... poi... ci confrontavamo... io ero più scalatore... però alla fine era sempre una festa... le Mars Appiah erano... erano troppo belle... e secondo me per... non perdere bisogna sempre puntare ai giovani... ma anch'io mi piacerebbe proprio fare la pubblicità di... di... aiutare le Mars Appiah... perché... si parte da... deve partire da lì... con i giovani... farli crescere... lì... le Mars Appiah... devono... devono capirlo anche... soprattutto poi in Val d'Aosta... che le Mars Appiah... e... per diventare... più forte dopo... bisogna partire dalle gare corte... non... puntare già subito alle gare lunghi... e poi... secondo me... che torni noi... adesso è un po' in amore da tutto... di sempre fare tutto... ma... di non molare... sempre fare le cose bene... come stanno facendo adesso... e poi... piano piano... con un'ottima pubblicità... con i giovani... torneranno... torneranno... a appassionarsi di queste gare... perché veramente erano... ogni domenica... era una festa... c'era una passione... veramente... un seguito... tantissima gente... mi ricordo io... quando ho visto la mia prima... San San Col Di Giù... avevo avuto... centinaia... di... 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 di fosi qua... del mio paese... che sono venuti a vedermi... che mi facevano tifo... a ogni tornante... che quando salivo... e io ricordo che ti rimane... o... da allora... secondo me... non bisogna volare torna a chiamare un po' questi campioni magari farli anche parlare farli qualche intervista e io me li ricordo questi campioni sono come dei miti sono rimasti dei miti nella mia testa adesso i miti sono alti è tutto diventato finché esagerato bisogna trovare di nuovo un po' più di calma c'è troppe gare adesso fanno una gara ogni domenica di gare lunghissime ma troppi chilometri troppe gare non è che fanno poi tanto bene allora ne potevi farne una domenica sì una domenica no anche ogni domenica tanto duravano poi mezz'ora 40 minuti era una festa adesso tante tante gare ce n'è troppe troppo dopo alla fine stufa poi anche e magari ci si torna poi innamarare nelle gare di nuovo un po' più corte un po' più un po' più accessibili a tutti no il try non è che dico il try il try è bellissimo anche il try bellissimo il tor bellissimo tutto adesso sta diventando tutto un po' esagerato allora bisogna dare di nuovo la calmata fare un po' meno gare un po' più tornare alla festa del paese boh teniamo duro dicono al mazzoppià tenete duro e vedrete che tornerà tornerà di voga teniamo duro grazie a tutti